UbiBanca ha incontrato ad Arezzo oltre 400 imprese per approfondire quelle che sono le esigenze finanziarie delle aziende. Agli incontri invitate tutte le figure professionali che sono interessate soprattutto al digital banking dedicato alle imprese. Lo spirito è duplice, il primo è di presentare la nostra piattaforma del digital banking imprese, faremo questi incontri fatti qui ad Arezzo, li ripeteremo anche a Perugia, Firenze e Roma dove opera Banca Etruria in maniera tale che le varie imprese possano utilizzare il nostro servizio. Il nostro servizio è all'avanguardia e ci permetterà senza altro di creare del valore per le imprese del territorio. L'incontro abbiamo visto davvero molto partecipato, immagino che ti è soddisfatto. Veramente sono soddisfatto e più che soddisfatto sono motivato, motivato a far meglio perché il vedere tanta gente presente all'incontro vuol dire che la cosa è sentita, vuol dire che il territorio sta rispondendo. Stiamo facendo diverse iniziative per la comunità e penso che tutto questo possa trarre vantaggio sia il gruppo UbiBanca ma anche le imprese del territorio, la comunità del territorio. Al 27 partirà effettivamente il discorso della fusione, l'ho detto poi oggi all'apertura dell'incontro che Ubi ci crede nel territorio della Toscana perché rappresenta il 7% del PIL nazionale, PIL che sta crescendo per fortuna per un punto e mezzo e questo ci può senz'altro rassenerare per ulteriori crescite anche dal lato impieghi.